Diciamo che i saldi a regola vanno abbastanza bene in quanto la gente ha voglia di comprarsi qualcosa anche se la situazione è difficile per tutti e la gente si trova in difficoltà però restando chiusa tanto tempo in casa e comunque non avendo la possibilità di fare nient'altro magari ha voglia di rinnovarsi qualcosa nel guardaroba oppure piuttosto che comprarsi qualcosa che veramente gli serve e il fatto anche che forse non ci si deve spostare più di tanto ma si rimane qui nel territorio per noi negozianti è stato anche abbastanza gratificante diciamo quindi non c'è male, non ci possiamo lamentare Quindi un po' un rovescio della medaglia il fatto che non si si poteva spostare dalle comune perché molti magari hanno comprato proprio qua a Vallefoglia Secondo me sì, secondo me sì, è diciamo il lato positivo che ci siamo ritrovati a vivere perché la gente non potendosi appunto spostare più di tanto ha rivalorizzato il territorio Vallefoglia offre tutto, basta avere un po' di volontà e noi ce la mettiamo tutta e speriamo continui così La differenza rispetto agli altri anni sicuramente si è vista però Sì sì, si è vista, diciamo che i saldi negli ultimi anni non sono mai stati, non sono più stati una vetrina per poter fare un salto per chiudere la stagione perché con la crisi negli ultimi anni i saldi si sono comunque fermati, un po' rallentati con le varie offerte che offrono un po' tutti, dappertutto Quest'anno c'è stata questa piccola boccata di ossigeno rispetto diciamo agli ultimi saldi abbastanza spenti diciamo che ci sono negli ultimi anni, ci sono stati negli ultimi anni Diciamo che non è andata benissimo purtroppo ma io me l'aspettavo sinceramente e poi secondo me sono iniziati anche troppo tardi perché si avrebbero dovuto iniziare adesso non i primi di gennaio ma comunque 6, 7, troppo tardi il 16 secondo me avrebbero dovuto iniziare prima Soprattutto sono iniziati il giorno in cui le Marche sono ritornate per due settimane in zona arancione Giusto, anche questo è un problema non da poco però purtroppo non dico niente su questa cosa perché purtroppo la pandemia quest'anno ci ha travolto cioè nel 2020 e il 2021 penso che non sia proprio tanto meglio però la salute prima di tutto vedremo andando avanti Rispetto all'anno scorso quindi un calo maggiore, molto? Direi proprio di sì ma tutto il 2020 compreso gennaio 2021 e febbraio non sarà meglio sicuro Io non sono pessimista, sono un ottimista spero diciamo che da Pasqua che sia tra virgolette meglio lo spero proprio Il riscontro purtroppo non si è visto, è come dieci giorni fa la gente non c'è, la gente non spende la gente anche se secondo me qualche soldino alcuni ce l'hanno però preferiscono non spenderlo perché non sanno a cosa vanno incontro il domani e siccome che il mio negozio comunque non è un genere di prima necessità quindi la gente non c'è c'è solo nell'alimentare e nei grandi magazzini insomma ecco Una situazione di crisi più dovuta dalla pandemia coronavirus o più in generale dall'economia degli ultimi anni? Diciamo che è un insieme di cose però adesso questa qui ci ha dato proprio il colpo di grazia questo anno qua questa pandemia è stata una cosa proprio non so come dire un temporale a ciel sereno cioè il cielo era già nuvoloso per dire la verità perché sono anni che andiamo male e adesso è stata una cosa proprio ci ha buttato a terra poi non solo anche tutta la burocrazia ci sta buttando a terra perché io ancora non sono in piano con la lotteria perché ho dovuto cambiare il registratore poi il registratore non c'erano già pronti mi è dovuto tornare di nuovo a mettere un pezzo dal registratore e poi dopo il pezzo adesso devo comunque io essendo piccolino ho sempre tenuto duro, stretto alle spese non ho ancora il banco ma insomma i servizi banco, mate e compagnia bella adesso prima devo attivare questo ma questo a me mi comportano spese spese su spese quindi tutto questo per me è per far sparire i piccoli negozi non c'è altra spiegazione dal mio punto di vista